Pasta con crema di patate e salsiccia. In una ciotola versare 5 patate lesse, un pizzico di sale, noce moscata, un filo d'olio, 3 cucchiai di formaggio grattugiato, un po' di acqua di cottura. Frullare tutto fino a che risulti una crema liscia. In una padella rosolare un po' di cipolo con un filo d'olio. Aggiungere la salsiccia a pezzetti. Sfumare con un po' di vino bianco. Cuocerla per 10 minuti. Versare la pasta cotta nella padella. Io ho scelto le mezze maniche. Versare la crema di patate. Buonissima deliziosa! Guardate che cremosità! Provatela anche voi! Buonissima delizioso! Buonissima delizioso! Buonissima delizioso! Buonissima delizioso! Buonissima delizioso!